L'ambiente e le sue problematiche non sono mai stati al centro del dibattito socio-politico come in questo periodo. Eppure dal 1998 che a Torino si è cominciato a lanciare l'allarme utilizzando la narrazione cinematografica. 24 anni fa nasceva il festival Cinema Ambiente che torna dall'1 al 6 ottobre nelle sale del Cinema Massimo in streaming, diretto oggi come allora da Gaetano Capizzi. Quest'anno avremo la formula mista diciamo, torneremo nelle sale cinematografiche che è il nostro obiettivo principale perché vedere i film al cinema è diverso da un'altra cosa, vedere i film tutti quanti insieme sperando che dal 1 ottobre aumentino le capienze delle sale cinematografiche come sta valutando il governo. Ma contemporaneamente così faremo tesoro dell'esperienza di questi anni di chiusura delle sale e il festival andrà completamente anche in streaming, si potrà vedere online per cui allargheremo i confini del pubblico che oltre quello torinese che affolla le sale del Cinema Massimo potrà così accogliere anche spettatori da tutta Italia. Oltre 3.000 i titoli iscritti quest'anno fra i quali sono stati scelti 89 film provenienti da 30 paesi per le due sezioni competitive internazionali, documentari e cortometraggi. Per la prima volta ci sarà anche una sezione non competitiva dedicata al cinema ambientale italiano. Si producono tanti film perché ci sono tante situazioni da denunciare, tanti allarmi da dare ma anche delle soluzioni da indicare. Una delle caratteristiche dei film moderni sull'ambiente è che oltre a denunciare i pericoli indicano anche le possibili soluzioni. Per cui sono film istruttivi che ci possono servire anche nella vita di tutti i giorni ad avere uno stile di vita comodo, tra virgolette, sì, ma meno inquinante di quello a cui siamo abituati. Time for Change è questo il claim scelto per l'edizione di quest'anno? Non c'è più tempo da perdere per l'ambiente? Sì, è un claim obbligatorio perché vediamo tutti i giorni eventi catastrofici che succedono per colpa dell'inquinamento, del cambiamento climatico, delle attività che sta producendo l'uomo. Qualche giorno fa c'è stato un grande sciopero globale dei ragazzi in tutto il mondo, milioni di ragazzi sono scesi in piazza per rivendicare il diritto ad avere un futuro, un pianeta pulito e abitabile e bisogna subito agire perché ormai i tempi sono stati superati e c'è bisogno di impegno della popolazione e degli amministratori per fare qualcosa di concreto e non solo promesse per il futuro. Concreto come gli appelli lanciati nel corso degli anni dal festival che ha portato la tematica ambientale non soltanto sul grande schermo ma anche nelle aule scolastiche, educando e sensibilizzando i più giovani. In questi 24 anni abbiamo visto crescere molto la coscienza dei cittadini e soprattutto dei giovani. I nostri film sono frequentati da giovani e da famiglie che vogliono riflettere su quello che succederà nei prossimi anni. Per cui sono processi di consapevolezza lenti ma il cinema sicuramente è uno strumento potente per raccogliere sempre più persone intorno a questi argomenti, discutere, far prendere coscienza e il cinema si è rivelato effettivamente essere uno strumento di educazione ambientale e di questo siamo contenti e porteremo sempre di più il cinema nelle scuole, in tutte le situazioni in cui possa essere utile parlare di questo tipo di cose, di questo tipo di argomenti. Grazie.